Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lori Frost e oggi ragazzi siamo su Clash of Clans. Oggi andremo ad attaccare per bottino sulle battaglie multigiocatore. Siamo in guerra, come vedete stiamo perdendo 22 a 18. Io ho attaccato il quinto, vi faccio vedere il replay, ho attaccato con una tipica Go Whip e si è difeso molto bene, però mi mancava anche Re Barbaro, quindi era normale. Avevano anche un drago nel clan, quindi come vedete ho messo due veleno, poi ho aspettato che i stregoni hanno spaccato il mure, poi sono entrati tutti i pecca in fila e pian piano sono andati a distruggere anche il municipio. Come vedete mi hanno fatto il giro ed è grazie alla mia regina se abbiamo buttato giù il municipio. Vedete ho buttato qua, intanto qua c'erano i golem e un pecca e lì c'erano due pecca morti male, il mio drago e così via. Ho voluto ancora fare un po' più di percentuale e sono riuscito solo a buttare giù l'estrattore e basta. Però adesso andremo ad attaccare in multigiocatore a guadagnare il bottino, sono a 2265, fra pochissima andiamo in Lega Cristal 1 e non è male. Andiamo subito a cercare una partita. Ovviamente cerchiamo quelli che hanno un po' più di bottino e che sono più facili da diciamo distruggere perché se andiamo a cercare i livelli alti con un municipio a 10 è pochissimo. E poi non riusciamo ad attaccarli perché abbiamo barbari e arcieri, non facciamo niente praticamente. Domani finisce Re Barbaro all'8 se non mi sbaglio e non è male. Questo qua no, aspettiamo sempre. No. No, neanche questo. Ovviamente sto guardando anche l'elisir nero. Vediamo un po'. Questo qua invece sarebbe interessante, però è meglio di no. Neanche questo. Questo qua no, è troppo forte. Questo qua no, è anche questo. A sto punto ci tocca attaccare solo per trofei perché con tante risorse ce ne sono pochi. Possiamo attaccare anche questo. No, vediamo. Attacchiamo qualcuno per trofei dai. A meno che non li troviamo con le risorse, però non penso. Questo qua no. Attacchiamo questo così facciamo vedere che non bisogna mettere il municipio fuori. C'ha la regina al 18. Ovviamente non useremo gli incantesimi perché non avrebbe senso. cerchiamo di fare anche il 50% magari. vediamo se riusciamo a fare il 50%. No, non ci siamo riusciti. Per fare una carata facciamo così. E basta. Ok, va bene. Sei trofei, non abbiamo neanche usato gli incantesimi, non male. Abbiamo un altro esercito pronto e direi che possiamo attaccare. Intanto facciamo l'altro esercito. E attacchiamo di nuovo. Siamo a 2.271 trofei, non sono male. Cerchiamo di avanzare sempre di più per il bottino e niente. E questo è tutto. Troppo forte. Troppo. 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 No. No. Sto scherzando ovviamente. Vediamo un po', vediamo un po' se riusciamo anche oggi a migliorare qualcosina. Però se non troviamo l'oro non facciamo niente. Eh, beh, però. Attacchiamo questo, dai, che ha le risorse, pochine, però ce li ha. Ce li avrà pochine, però dai. Ok. 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 mettiamo furia tutti gli arcieri un'altra furia e vediamo cosa combiniamo vai barbari entrate lì dentro bravissimi fate il devasto ok abbiamo fatto il 50% forse ci riesco abilità e vai ci sono riuscito e smettiamo subito due stelline 54% ci siamo portati a casa il bottino e 11 trofei non male niente male niente male cos'ho nel clan castello e beh stiamo migliorando il re barbari al 7 scusate avevo sbagliato prima abbiamo la regina al 5 stiamo migliorando la mia prima difesa aeree al 7 e anche e basta sto aspettando per migliorare penso 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 la tesla oppure gli altri cannoni anche i mortai sarebbe non sarebbe male una guerra procede sempre così gli altri sono stati molto più precisi di noi e penso che ce la meritano loro ragazzi direi che questo video può finire qui lasciate tanti like commentate per nuovi episodi se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella raga